Buon mercoledì 16 febbraio. Un breve episodio del Vangelo di oggi che ci parla intensamente della nostra contemporaneità. Se lo leggiamo non in termini meramente miracolistici ma cogliamo il senso paradigmatico, simbolico, metaforico dei gesti che fa Gesù. Con i suoi discepoli arriva in un villaggio, gli presentano un cieco e chiedono di guarirlo. Allora Gesù primo gesto sostanziale. Lo prende per mano, crea una relazione attraverso il tatto, fa un gesto di vicinanza, di socialità e lo conduce fuori dal villaggio. Non opera dentro il villaggio perché quel villaggio è il contesto nel quale quella persona ha espresso la sua cecità. Cambia totalmente il contesto. Oggi siamo attraversati da crisi profonde nelle quali tutti i giorni ci avvertono che presto torneremo come prima. Cioè staremo in quel villaggio simbolico dei nostri stili di vita che hanno preceduto questa crisi sanitaria. Nessuno ci prende per mano e ci porta fuori dal villaggio, fuori da ciò che era prima. Lasciamolo alle spalle. Lo porta fuori dal villaggio e fa dei gesti molto semplici. Tocca i suoi occhi con la saliva. Guardate questo è un gesto di grande potenza perché è l'incontro dei corpi nel rigenerare. La vista è il riconoscimento. Di questo ci parla il Vangelo di oggi. E in quel gesto, semplicissimo, poi impone le mani e gli chiede cosa vedi. Vedi? È un passaggio molto potente. Cosa vedi? No, cosa vedi? E dice ma vedo delle figure che mi sembrano degli alberi che camminano. La sua vista è ancora incerta, indefinita, distorce un po' la realtà. A quel punto Gesù rinterviene, gli impone le mani ancora una volta e a quel punto il cieco vede con chiarezza. E qui ci porta Gesù alla perseveranza, non una volta soltanto, una volta per tutte e poi o accade il miracolo o non insistiamo più. Ripetere costantemente il gesto per progressivamente aprire i nostri occhi e porre lo sguardo a ciò che ci circonda, all'umanità, alla natura, al luogo autentico della nostra espressività. E a questo punto Gesù conclude questo brevissimo passaggio, questo episodio, invitandolo a non tornare nel villaggio. Aperti gli occhi, resa limpida e cristallina la visione, è chiaro che la nostra tentazione è tornare indietro, è veramente quello che oggi in qualche modo vogliono indurci a fare, rassicurandoci, non c'è nessun dubbio. Tornare a essere quello che eravamo prima, tornare in quel villaggio, il villaggio della relazione sociale atrofizzata, dell'ipertrofia di quella virtuale, informatica, il villaggio dell'incapacità di amare, dell'individualismo e dell'egocentrismo, che ci ha resi ciechi nei confronti dell'ecologia profonda. E questo non tornare significa andare oltre, andare oltre quella fissazione nella quale ci eravamo consegnati ormai da tanto tempo, nonostante tante crisi ci hanno messo in evidenza, che ci hanno toccato, ma noi ci siamo resi indisponibili al processo trasformativo che bussava alla porta della nostra coscienza e voleva in tutti i modi che noi accogliessimo quei gesti semplici di Gesù che apre lo sguardo. E non ci chiede di tornare indietro, ma di andare avanti verso la via della salvezza che è il regno di Dio, il luogo autentico dell'esistenza fondata sull'amore. Buona giornata a tutti.